Allora, mi metto così perché non spoilerò niente dello studio nuovo che sto preparando Oggi è martedì, non ho fatto video ieri, in senso non ho vloggato ieri perché ero straoccupato a mettere a posto lo studio Infatti ho lavorato per una buona decina, dodicina d'oro qui sopra in questo studio qua In più è venuto Serena ieri, ho vloggato, cioè non abbiamo vloggato, abbiamo registrato il video degli acquisti del Luca Comics Che vedrete probabilmente prima che esca il weekly, se tutto va bene, io adesso sto per iniziare a editarlo E poi adesso vedremo come si evolve la giornata, adesso mi butto al lavoro sul video degli acquisti Ok, allora, adesso sono le sei e mezza passate, sei e trentacinque già E oggi ho fatto una cosa nello studio, ovviamente ho appeso questo quadro alle mie spalle e basta L'ho appeso pure abbastanza storto ma non c'ho l'unità, quindi rimarrà lì così com'è Tanto non è quello storto che dà fastidio, almeno è proprio lì al limite tra il fastidio e il non fastidio Poi avrei tutta una parte dello studio da sistemare che è piena di roba da usare per altri video di roba del genere E ho avuto problemi, oggi vero smanettato perché avevo problemi con Final Cut Perché mi aveva riempito l'ardisca a bestia e adesso sono riuscito a sistemarlo Quindi devo andare avanti editare il video degli acquisti del Lucca Comics E poi devo sistemare gli acquisti del Lucca Comics E altra roba Mercoledì Allora Ho passato tutta la giornata a editare tutta Gran parte della giornata a editare il video che uscirà domani Ovvero giovedì 9 se non erro No oggi cos'è? No giovedì 8 E' venuto molto divertente, un po' troppo lungo perché sono 34 minuti Ma devo dire che ne vale la pena perché non mi sembravo... Cioè non mi andava tantissimo di dividerlo a metà perché non sapevo bene come dividerlo Che venisse abbastanza equilibrato e non spezzasse troppo il genere Perché poi magari dopo guardi il primo video che c'è la prima metà Poi la seconda non guardi più Ho fatto tutto lì a chi interessa se lo guarda Punto Ho messo i link in descrizione di tutti i prodotti Quindi per chi se lo fosse perso e c'è qualche prodotto Che potrebbe garbarli tra giochi e accessori e ci sarà un monitor Potete andarlo a trovare Ci sono i link di tutti i prodotti che ho acquistato almeno la gran parte Perché molti non potevo mettere i link perché non li ho trovati O perché comunque li ho comprati usati Tipo ho comprato un Pokémon argento E non sapevo dove trovare i link Visto che li ho comprato da un rivenditore laggiù E non so neanche chi fosse da un rivenditore laggiù Quindi boh Adesso voglio rilassarmi Quindi tornerò in studio Dove ho lasciato la mia Switch E vado a giocare a Dark e Saul Allora sto costruendo questo Che è uno degli acquisti del Luca Comics Ovvero un catamarano in legno da assemblare Mentre mi sto guardando Sabrina su Netflix Diciamo che sono più o meno da un'oretta qua Questo è il risultato attuale È ancora un bel po' da fare Però sta andando stra bene Mi piace un sacco Sono tornato in camera mia Sono stanchissimo Oggi ho veramente fatto abbastanza Anche tanto Nella camera Cioè nello studio Quindi mi sto rilassando Adesso ho iniziato a giocare a Red Dead Redemption Visto che essendo a Luca Non ci ho potuto giocare Quindi mi sono rimasto abbastanza indietro Visto che il video È andato abbastanza bene Ci tengo a specificare il fatto che Ho fatto tanti acquisti Perché c'erano gli sconti Ho preferito risparmiare E non comprarmi molti giochi Normalmente Per poi recuperarmi tutto scontato In fiera E un buon 90-95% Della roba che ho comprato Era tutta scontata Quindi Niente Nessuno mi ha fatto ancora la mentele Però era una cosa che Mi hanno dimenticato di dire Per evitare grane o discussioni Volevo solo dire questo Perché comunque Posso capire che può dar fastidio Il fatto che io abbia preso tanta roba Così nel giro di 4 giorni Solo che io comunque Per 2-3 mesi Non ho fatto acquisti Se non necessari Soprattutto videogiochi Zero A parte Red Dead Che era uscito E era una cosa Che ci tenevo troppo Per perdere Soprattutto perché L'avevo già preordinato Quindi non potevo Non andarlo a ritirare Però Ho comprato tutto Per lo più scontato Con i miei soldi Con i miei soldi E parte qualche cosa Che ha voluto regalarmi A mia madre E come ho detto Tipo il monitor Non me lo aspettavo Me l'ha regalato lei Tipo wow A parte il fatto che Mi è stato un grande risparmio Per me Perché comunque Quel monitor Avevo già una mezza Intenzione di comprarmelo Ma io non avrei pensato Di averlo così presso Perché comunque Aveva un bel prezzo E invece Così era molto più scontato E sinceramente È stato Una Una fortuna Per me Sia che me l'abbia regalato Sia il fatto che fosse scontato Così non mi è pensato tanto Il fatto che mi abbia fatto Un regalo del genere Devo dire che comunque È pazzesco Magari ve ne parlerò Più approfonditamente Ma Non lo so Perché non sono un recensitore Quindi Boh Dico solo che Per chi non lo sa Ha una funzione Strabella Che permette Di Essendo un 32 noni Di dividerlo In due 16 noni E quindi Collegandogli due sorgenti diverse Si può suddividere Il monitor in due E quindi avere due sorgenti diverse Che siano dallo stesso dispositivo Quindi avere tipo Come fosse un doppio schermo Per un computer O avere tipo Un computer Una console O due computer diversi E questa è una gran cosa Perché veramente Apre un mondo Di opportunità Sul lavoro Da videomaker E comunque Anche nella gestione Di dispositivi È vero che è un monitor Che costa di più Però Per chi fosse interessato E gli evita Di avere due monitor Perché magari Chi vuole fare Boh Streaming O roba del genere Che ha bisogno Di due monitor Quasi per forza Con quello è a posto Perché ha Il posto per il monitor Quando gli serve E invece Quando non serve Ha un monitor intero Che per giocare Ed editare È qualcosa di spaziale Veramente Magari ve lo farò Poi vedere Prontamente Così vi faccio vedere Anche il mio Ongolino di editing Che è nello studio Al pieno di sopra GG Cosa ne pensi Di Assassin's Creed Odyssey? Signore La testimonianza Di un esperto Di fama mondiale Mondiale Ragazzi Fama mondiale L'anetaria Assolutamente Interplanetaria Di fama Interplanetaria Dello sfondo Archipetonico Del tipo Che è anche Star Wars E i nomi di GG Vedi che c'è Dan Solo Che dice Ah sì Lo conosco È molto famoso Comunque Adesso Mi sto inquadrando malissimo Ok Comunque Oggi è l'ultimo Sono delle litri Di questa settimana Adesso Gigi Non sto niente Con Oster's Creed Io invece Adesso voglio Poi mangiare Ho fame Sono le 5 Tipo Sono le 5 E mezzo E venti E ho fame Giacchene Sono le 5 Eh ma guarda Sono le 5 E mezzo Citto E comunque Mi sto reggiando Un braccio Non mi sape Da te Siamo già Ordinato Le pizze Adesso Devo vedere Perché Mentre Stavo per avviare Weekly Mi è arrivata La risposta Mi è arrivata Mi è arrivata Mi è arrivata Grazie a tutti.